Ciao a tutti ragazzi, qui il vostro ArtCaper, oggi sono qui in questo non-commentari, oggi sono qui un pochino per parlare della possibile introduzione delle sfide stagionali e un mercato nero per quanto riguarda la modalità zombie. Andiamo con ordine. Per parlare delle sfide stagionali dobbiamo partire da un presupposto. Qualche giorno fa, o anzi quasi più di una settimana fa, sono state leccate le ultime Dark Ops mancanti, che erano se non sbaglio tre rispetto a quelle che abbiamo già scoperto, perché sono state scoperte quasi tutte, alcune molto difficili, alcune molto pallose, ma comunque tutte abbastanza raggiungibili, anche se alcune richiedono veramente molto tempo di gioco, ma era un po' prevedibile rispetto a quelle di Black Ops 3 che erano praticamente soltanto easter egg e una era a livello massimo di un prestigio, quindi il 35. Era roba molto molto veloce, mentre qua sono andati un pochino a livello più alto e hanno fatto Dark Ops molto più difficili. Ma ne mancavano comunque tre che nessuno sapeva quali fossero, ma hanno provato qualunque cosa easter egg in realistico, un botto di sfide strane a chi veniva in mente, ma non le hanno trovate. Quindi qualcuno su PC è entrato nel cogito del gioco e ha trovato le immagini per queste ultime Dark Ops. La prima, la potete vedere qua, ha una qualità un pochino bassa, ma comunque si lesce a leggere, che dice Completa tutte le fazioni, nella chiamata delle fazioni stagione 1. Allora, qua dobbiamo andare un pochino indietro per spiegarlo bene. Alla presentazione iniziale di COD, che era di questo maggio, Jason Valdell aveva già parlato di moltissime cose che avevano raggiunto su Zombie. Aveva parlato, vabbè, delle custom mutations, la modalità Assalto, e parlò anche delle chiamate Callings, in inglese, che ha detto che sarebbero state sfide stagionali, o comunque delle piccole sfide, con qualche piccola ricompensa, soprattutto fatto a stagioni per ottenere qualche oggetto. Per adesso ce n'è stato soltanto uno, che è stato quello di Halloween, che avevo fatto anche io un video su come si sbloccassero. Erano delle sfide abbastanza semplici, non troppo lunghe, per bloccare quelle che erano poi le mimetiche facciali, quelli colori che potevate applicare ai personaggi sia di Zombie, ma anche nel multiplayer si potevano utilizzare alla fine. Quindi erano sfide da fare su Zombie, però che potevate applicare a tutti i personaggi. In seguito però, all'incirca verso luglio, quando ci fu il Comic-Con, a un'altra intervista minore, non grande, come fu la presentazione per quanto riguarda Black Ops 4, che gli fu proprio annunciato il gioco e presentato un botto di roba oltre che Zombie, Jason Brudella, un'intervista appunto molto piccola, rispose a qualche domanda per quanto riguardava Nine e Voyage, parlò un pochino tipo delle tigri o cose piccole, dava sempre quei piccoli indizi ogni tanto, come sempre fa lui, però parlò anche di queste fazioni. Quindi disse, Le fazioni ci saranno su Black Ops 4 Zombie, ognuna con le proprie quest e la propria narrazione. Queste fazioni aggiungeranno un'altra dimensione alla storia. Queste fazioni saranno Blood Fade, Tempus Novi, Dustborn e Thirst Legend. Dice che queste fazioni aggiungeranno un altro livello all'esperienza di gioco, con chi volete stare, cosa volete fare, con quale fazione volete proseguire o dare del progresso. Quindi per Jason Brudell queste fazioni, che a lancio non ci sono state perché non le abbiamo, quindi penso verranno aggiunte in seguito, permettranno di fare delle quest secondarie o comunque altri obiettivi, oltre a quelli che sono gli easter egg, fare round alti, non lo so, sbloccare tutto quello che c'è in una mappa, delle cose in più. Oltre a quelle che sono già state anche le chiamate, come è stato le sfide appunto per Halloween, che quelle sono delle sfide un po' piccole, robe che comunque si fanno abbastanza in fretta, perché se ti ci mettevi in due o tre ore secondo me potevi farle, ma anche con calma, in un paio di giorni, dato che durarono mi pare forse una settimana intera o qualche giorno in meno, comunque erano più che fattibili, mentre queste fazioni erano una cosa un po' più lunga, quattro fazioni intere, ognuna probabilmente con la propria storia, le proprie sfide, le proprie cose da completare e magari con qualche scontro tra queste fazioni, magari se tu sei affiliato con questa fazione sai che questa è la tua nemica, mentre questa è tua alleata, qualcosa del genere che avrebbe dato appunto un altro livello all'esperienza di gioco, molte più cose da fare e un intreccio di storia maggiore, per cui avremmo potuto fare molte più cose e appunto si parlava del fatto che ci fossero altre quest minore, perché noi ovviamente abbiamo le quest grandi che sono gli easter egg, ma dovrebbero esserci anche delle quest un pochino più piccole che sono riguardanti queste fazioni, quindi qualche piccolo obiettivo però che permette alla storia di quella fazione di proseguire, o magari al nostro livello di questa fazione di proseguire per ottenere delle ricompense o qualcosa del genere, e può essere una struttura fatta molto bene perché in molti giochi, soprattutto magari MMO, a me viene in mente Destiny Warframe per dire, ci sono delle fazioni anche appunto rivali o alleate, ognuna con le proprie ricompense, comunque con i propri vantaggi o svantaggi a seconda di quello che si vuole ottenere, e quattro fazioni su zombie, se strutturate bene, possono dare veramente un altro livello, comunque molte altre cose da fare, perché in questo periodo molto si parla del fatto che non ci sia più niente da fare su zombie dopo che il gioco è uscito da quasi due mesi. In su questo non sono al 100% d'accordo, sono d'accordo sul fatto che molti di noi hanno giocato davvero tanto, io sono il primo e lo ammetto tranquillamente, ho giocato veramente tantissimo a zombie, ma mi sono dedicato anche alle altre modalità di gioco per quanto riguarda Blackout in multigiocatore, quindi so che comunque tornare a zombie dopo un po' di tempo fa abbastanza bene, perché ci sta a fare magari la nerdata molto lunga, però non subito lamentarsi di dire che non c'è più niente da fare, provare il resto del gioco, o magari giocare anche a qualcos'altro direttamente, e dopo un po' tornare su zombie, anche giusto per vedere cosa hanno cambiato, magari riprovare una cosa che non si è mai provato, tipo un easter egg, lo so, provare a fare un altro su questa mappa, provare a fare qualche altra anche piccoli easter egg, tipo quelli che si sono scoperti di recente su Nine and Voyage per avere un bonus in più, potenziare lo scudo, cose piccole, però anche comunque come ho detto prima, magari provare un update, quando uscì l'update della speed call, una volta comprati tutti e quattro i perk, in quel periodo non stavo giocando tantissimo a zombie, quindi non l'ho provato subito, però quando sono poi tornato qualche giorno dopo, l'ho provato e ho detto, beh, fighissimo, mi ha trovato un pochino a voli giocare a zombie, quindi sono quelle piccole cose che un pochino ci danno. Quindi questa aggiunta di fazioni, magari non era programmata fin da subito al lancio, come magari parlava di Blondel, non so se lui, proprio quando ne ha parlato, era convinto che sarebbe stato al lancio oppure no, però comunque ne ha parlato in maniera abbastanza specifica, cioè sapeva già qualcosa in mente, sapeva come sarebbe stato fatto, quindi secondo me queste fazioni sono molto vicine. Inoltre la scoperta di questa Dark Ops da parte di giocatori di PC che sono entrati nel codice mi fa capire che comunque queste fazioni dovrebbero essere praticamente pronte, se già nel codice del gioco penso che sia molto vicino, quindi magari in questo periodo natalizio, poco dopo, penso che questa introduzione di fazioni sia molto possibile, o è comunque molto molto vicina. E su questo io sono molto contento, perché sono andato appunto a riguardarmi vecchie interviste di Blondel, ho guardato anche tutta l'intera presentazione vecchia di maggio, perché non mi ricordavo benissimo di cosa aveva parlato, un pochino a me era piaciuto riguardare indietro, perché era a maggio, ho passato quasi, non dico un anno intero, però sei mesi sono passati, e quindi Blondel aveva detto veramente tante cose, non tutte sono state messe al lancio, ma questa è una cosa che succede spesso in molti giochi, per cui spero che siano introdotte molto presto, perché comunque qualcosa in più su zombie fa bene, abbiamo sicuramente quattro mappe, moltissime cose, però comunque i giocatori zombie sono famosi per distruggere il contenuto subito, anche se ci danno molte cose, noi giochiamo veramente tante, non è del tipo, noi giochiamo un tot, quindi abbiamo tot di mappe e durerà di più, no, noi più roba c'è, più giochiamo, e quindi più distruggiamo tutto il contenuto, mi ricorda un pochino come è stata la community di Destiny, che noi più contenuti avevamo, più giocavamo e facciamo tutto subito, è un po' normale per questo tipo di giocatori, che vuole veramente tanti contenuti, e quando ne ha tanti li macina veramente in fretta, ed è un po' un armi dopo il taglio sempre fare moltissimi contenuti, perché comunque Black Ops 4 è il gioco con più mappe a lancio possibile, anche con più roba rispetto ai vecchi zombie, però la gente dice, eh, era meglio Black Ops 3, era meglio Infinity Warfare, però c'è da dire che noi guardiamo i vecchi code, i vecchi zombie, avendo già tutte le mappe e tutti i DLC, Black Ops 3 abbiamo avuto 4 DLC più Zombie Chronicles, che è una quantità di mappe incredibili, con moltissimi update ci sono stati, aggiunte tantissime GabbleGam, quindi secondo me per Black Ops 4 bisogna aspettare ancora la stagione dei DLC, e un probabilissimo Zombie Chronicles 2, per dare un'opinione definitiva. Inoltre comunque, per quanto la Traction abbia sistemato ancora tutti i problemi del gioco, che sono stati tanti, sono d'accordo, riguardando anche al lancio di Black Ops 3, ci sono stati tantissimi problemi con le armi, tipo se le prestigiavi ti si bloccava gli accessori, ti si bloccava il gioco, cose stupide così che magari ci siamo dimenticati, che sono state poi patchate e sistemate, come stanno facendo adesso con Black Ops 4. Sicuramente rispetto al lancio abbiamo fatto molti passi da gigante, ci sono ancora molte cose da sistemare su quello, sono molto d'accordo, però comunque siamo sulla retta via, e secondo me nel giro di qualche mese, con qualche DLC, il gioco sarà più che giocabile. Questo era quello quanto riguardava le stagioni, le quest, le fazioni, tutte queste robe qui. Passiamo invece al mercato nero. Qua siamo un pochino sulla speculazione, che su robe più reali, o comunque più visibili, ad esempio nel codice del gioco. Per quanto riguarda il mercato nero, si è notato come moltissimi giocatori di zombie, soprattutto su Reddit, si sono lamentati del fatto che zombie non permettesse di fare progresso, per quanto riguarda il mercato nero, che erano 200 livelli, e anche già giocando al multi e blackout, ci voleva comunque tantissimo tempo, perché il progresso era soltanto a tempo giocato, quindi non dipendeva quanto eravate bravi, quanti kill facevate, ma soltanto quanto giocavate. Quindi più giocavi, più livellavi il mercato nero, fino a livello 200, vabbè, oltre per le riserve, però di base 200 livelli, per sbloccare tutte quelle skin che il gioco dava, più qualche riserve che dava skin casuali, oggetti casuali, che quelli sono un po' più secondari, però di base comunque, soprattutto a livelli alti, si trovavano oggetti molto interessanti. Io di recente sono arrivato a livello 200 sul mercato nero, farò un video a riguardo, ho giocato moltissimo blackout, perché a me interessavano alcuni mimetiche, quella per le armi, quella un po' più secondaria, ma soprattutto a livello 199, c'era Hudson per blackout, a me interessava molto, quindi ho deciso di giocarci, mi ci sono messo, e alla fine l'ho fatto. Però fa un pochino strano, che un giocatore di zombie, come me, che ci ha giocato veramente tanto, debba dedicarsi comunque al multi o blackout, per livellare il mercato nero. A me non è dispiaciuto troppo, perché comunque, il multi giocatore di questo gioco, mi ricorda molto blackouts 2, dove ho giocato veramente tanto, e a me blackout è piaciuto. Però sono d'accordo sul fatto, che moltissimi hanno preso blackouts 4, solo per zombie, io all'inizio l'ho preso solo per quello, il resto volevo soltanto provarlo, e comunque alla fine mi è piaciuto, però principalmente, giochiamo tutti a zombie, come community. Quindi ritrovarci letteralmente, con un pezzo di gioco, che a noi manca, perché noi giochiamo a zombie, non ci dà nessun progresso, e molta gente appunto, si è lamentata, basta guardare Reddit, ci sono stati veramente tantissimi post, soprattutto il mese scorso, ma sono continuati, sul fatto che avrebbero dovuto mettere, un progresso di mercato nero, anche per noi. Molte hanno pensato al fatto, che in realtà non sarebbe proprio il massimo, perché su zombie, il tempo di gioco può essere, un pochino farmato, se ci si mette tre bot, e si mette in un angolo, i bot da soli fanno round su round, perché sono immortali, uccidono gli zombie, sembrano l'instant, quindi si potrebbe farmare, il progresso del mercato nero, e su questo sono d'accordo. Ma il progresso del mercato nero, si può farmare anche su blackout, e molti, ci sono dei modi per stare fermi, e ottenere progresso, non è efficace, come può essere quello di zombie, però comunque funziona, e molta gente l'ha utilizzato. Per cui sicuramente capisco, per cui la 3D non l'abbia implementato subito. Per questo gira voce da un po' di tempo, che magari potrebbero fare un mercato nero, soltanto per quanto riguarda modalità zombie, quindi con immagino molti più livelli, molto più di 200, o comunque con un progresso molto più lento, per cui chi gioca molto a zombie, comunque con quel tempo di gioco, si potrà farmare, però saranno talmente tanti livelli da fare, che sarà comunque introdotto in maniera diversa, o comunque sarà fatto apposta per zombie, quindi comunque ci saranno magari qualche mimetica apposta, che si può utilizzare soltanto su zombie, qualche altra mimetica magari soltanto per i personaggi, zombie, o qualcosa del genere, per cui bisogna vedere cosa si inventeranno, gente dice che arriverà per questo periodo natalizio, io non lo so, perché appunto questa è solo speculazione, non si sa ancora nulla, non è roba che possiamo andare a verificare, come è stato invece l'argomento di prima, per quanto riguardava le fazioni. Per cui su questo io non sono molto sicuro, se per caso lo aggiungeranno, io sarò molto contento, e sicuramente lo farò a tutti i livelli subito, perché comunque già il mercato nero, per quanto riguardava molti blackout, non mi era dispiaciuto, era molto lungo livellarlo, ma ci hanno dato diverse volte il progresso doppio, e quello aiutava veramente tanto, però qualcosa di proprio specifico solo per noi zombie, non sarebbe malissimo, e anche qualche ricompensa esclusiva per noi, non sarebbe per nulla male, perché quelle mimetiche facciali, oltre che essere molto veloci da sbloccare, non erano nulla di assurdo, erano carine, però io poche volte le ho utilizzate, e non erano nulla di assurdo, diciamo. Ragazzi, in questo video c'erano parecchie speculazioni, ma anche parecchie discussioni, per quanto riguardavano argomenti, un pochino più verificati, soprattutto per quanto riguarda, ciò che dice Blundell, perché lui molto spesso comunque dice cose, che poi non sono verificabili, dice cose un pochino strane e nascoste, lui è sempre stato un uomo molto misterioso, e ha sempre detto cose un pochino vaghe, e per questo lui è sempre stato la rappresentanza, di zombie diciamo, però noi abbiamo bisogno di qualcuno, che ci dica le cose un pochino più chiare. Per quanto riguarda il multi blackout, abbiamo Vonderart, che comunque lo dice molto spesso anche su Reddit, commenta, dice se stiamo lavorando da questo, se stiamo lavorando da quest'altro, mentre il team di zombie, per quanto comunque ci segnano delle patch notes, che ci dicono abbiamo risolto questo, abbiamo cambiato questo, c'è bisogno di sapere cosa il futuro ci darà, e cosa c'è in programma, perché comunque per quanto riguarda le altre modalità, c'è sempre un piccolo programma da seguire, sappiamo più o meno cosa stanno per aggiungere, cosa stanno per cambiare, se stanno lavorando a questo bug fixes, o aggiungere questa roba qua, mentre zombie si sa davvero poco, e c'è bisogno comunque di una scaletta, o di una mappa che ci faccia capire, aggiungeranno questo, non per forza una data specifica, ma magari tra una settimana, questo verrà risolto tra un mese, o nel giro di un mese verrà sistemato questo bug, verrà aggiunta questa piccola cosa, questo permetterebbe alla community, di essere un pochino più tranquilla, perché molta gente si lamenta del fatto che, voglio questa roba qua, loro dicono che ci stanno lavorando, ma potrebbe uscire tra un giorno, o tra un anno, è quello il problema, per cui una mappa concettuale, per quanto riguarda ciò che vogliono fare, o che stanno pensando di fare, non farebbe malissimo, e comunque un po' più di trasparenza, per quanto riguarda la community di zombie, perché a noi non stanno dicendo davvero niente, e un po' mi dispiace, anche se io comunque continuo a giocare a zombie, perché ci sono ancora molte cose da fare, e a me la modalità piace, non c'è nulla da fare, abbiamo quattro mappe, o tre, per chi comunque non ha il Black Ops Pass, e di cose da fare ce ne sono tante, però sicuramente, per quanto abbiano deciso di fare questa politica, di molti update, molto frequentemente, anche se un po' più piccoli, c'è bisogno di un pochino, un programma diciamo, diciamolo così, un programma da seguire, per quanto riguarderà, questo anno o due di supporto a Black Ops 4, per cui ragazzi, io ho parlato veramente tanto, mi dico di me nei commenti, che cosa ne avete fatto, magari fare una piccola discussione, io sono fiducioso nel futuro di questo zombie, perché a me Black Ops 4 sta piacendo, sta avendo i suoi problemi, ma sta avendo anche le sue buone cose, per cui vedremo alla fine cosa uscirà, se sarà, non so, non voglio andare a confrontarlo con Black Ops 3, o Black Ops 2, o Black Ops 1, perché sono tutti comunque periodi molto diversi, come andrà a finire questo zombie, e come andrà avanti anche il futuro, vi invito come al solito ragazzi, a lasciare un mi piace, a iscrivervi al canale, e seguirmi su Twitch, ci vediamo al prossimo video, un abbraccio, ala.